Se mori un po' dentro, poi dopo arriva fuori logra e l'ammazza sull'attività. Però teoricamente è anche veloce. È sicuramente veloce. E poi tutto dipende dal nano. Perché? Certo è che voi prendete un costo dove c'è l'acqua, io con il nano non so. Ma non bisogna mica andare in acqua. Eh ho capito, ma lo mette a disagio il fatto che siamo vicini all'acqua. La missione nelle caverne c'è. Vorrei fare Black Powder con Vale comunque. Black Powder sarebbe divertente. Qual è Black Powder? È una che non vedremo stasera Vale, tranquillo. Nemai peraltro. No, appena Vale ci prende la mano. Io non mi ricordo dove bisogna andare. Una è a destra e una è a sinistra. Ma a me piace tantissimo che il nano va avanti, ha i ratti dietro, ma se ne sbatte. Ma siete partiti, poi vi siete fermati. La colpa è sempre no. Ha uno che lo insegue proprio. Sì sì, lo inseguono sempre. È per quello che muore, perché ha lo scudo solo davanti. Eh, dovevano metterglielo dietro. Ma c'è già l'ogre? No, perché? Io non lo sento. Ma siete sicuri? Via! Siamo alla prima. Siete pronti? Sì, c'è un pack master, c'è un pack master. Dove, dove? Non lo vedo. Non lo vedo. Bad Karma l'ha ucciso. Io vo' a tirare i barili di sotto, eh. Voi mi piazzateli bene. Va bene. Ecco, porca zoppina. Vale non colpire i barili quando ti tirano. Com'è il Gobedier? Il Gobedier sarà morto, no? È un assassin? Non lo vedo, ma sicuramente mi capiterà sulla testa. L'assassino è morto, l'assassino è morto. Il Gobedier non so dov'è. È là, guarda. È l'entrata, guarda. Ok, che è la buona metà, la buona metà. Allora, bimbi. Ecco, c'è una pioggia di ratti, ma ora arrivano i barili, eh. Il primo è giù. Il secondo pure. Cazzo, porco Dio, aiuto a... Uno l'ho messo. Ce n'è un altro, almeno un altro. Fandomo. Allora... Sono vicino ad altri due, devo solo capire come arrivarci. Ando a trovare delle scale. Aspetta, doveva partire una missione di soccorso Vale. Allora. Vediamo. Mi avete abbandonato. Un po' circondato. Come? Siamo tutti nello stesso magazzino. Oh, oh. Poi una mano, Simo, ce la fai. È che proprio non so la strada per arrivare a quei barili, ma ora... Oh, quanta gente. Eh... Tento di capire come. Do, andate lì sotto. Servono barili. Sì, eh... Mi piacerebbe tanto arrivare a quel barili lassù. Non ho ancora capito come arrivarci. Ah, ecco qua la scala, quindi devo arrivare qua. Piffa, non ci arrivo. Da qua. Ah, ok, ci sono. Arrivo, eh. Devo fare un salto. Eh, queste sessioni di platforming, no? Perché abbiamo mandato Simo? Eh, in effetti... No, no, ci sono, ci sono. Qualcuno sta male. Penso sia il nano. Così. A naso, ecco. E io tu sono circondatissimo. Eh, anch'io. Allora, quando l'ho circondato io, eh? Arriva, arriva, arriva. Arriva un barile. Eccolo lì. Però dovrebbero risponare i barili appena lo mettete. Dov'è? Mettetelo. Lascia, 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 lascia. Ok. Sono risponati i barili. Ve ne mando altri due e poi sono finiti. Questo in cima alla scala lì garbanzacco. Ecco. Ecco qua. C'è un hunter. Un hunter su Vale. L'ho trovato, l'ho trovato l'hunter. L'ho trovato. L'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Barile, giù. Ce l'avete. E ora vi mando l'altro. Io le vai, va, vale. Tu metti il barile. Che è scoppiato? No, ho scoppiato. Però l'ho messo. L'hai messo, l'hai messo? Perché conta come 4 o 5. Vado a mettere l'ultimo. Mi ha fatto danno, ma... Oh, oh. Era il... Oh, oh. Il barile di Schrödinger. L'esploso, ma... Oh, c'è un... Oh, dio, merda. Arrivo il Gatling. No, in realtà sta prendendo me, tecnicamente. Eh, non stiamo messi benissimo, eh, devo dire. No, no. Ma il barile? Eh, il barile è esploso. Ora ne arriva un altro. Merda. Questo Waterfront doveva essere tanto semplice. No. Eh, no, il problema di questa missione è quello, che se fai all'aspetta è facilissimo. Se stai qua 6 ore, invece no, perché... Ecco, adesso sono arrivati altri 2.000 Storm Vermin. Allora, il barile lo sto mettendo. Scappiamo da qua, ok? Eh, ho due Storm Vermin qui, sì. No! Scappiamo da qua. Eh. No, me ho fallito tremendamente. Non è bravo in mezzo. Eh, perché mi avevo messo 40 minuti. Ce mi avevo messo 40 minuti. Volete sapere perché è fallita? Eh. Perché era registrata. Ah, ok. Perché era? Sfochiamo quando era registrato. Eh! Vada là, vada là. Sì. Sì. Sì.